Test serologico anti-covid per il personale scolastico a Vicenza si comincia lunedì direttamente nelle scuole. Primo weekend di obbligo dell'utilizzo serale all'aperto delle mascherine rucco, linea morbida per ora. Elezioni regionali 2020, primo giorno utile di presentazione ufficiale delle liste dei candidati. Arzignano, giorno del funerale di Angela Vignaga, il presunto pirata è già ai domiciliari. Sagre, si riparte in sicurezza, posti ridotti e prenotazioni online. Buonasera e benvenuti al TG Vicenza, apriamo il nostro telegiornale come sempre con i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto che ci dicono che rispetto all'ultima rilevazione, quella di questa mattina, sono 102 i casi positivi in più. Attualmente i casi positivi in tutta la Regione sono 1.944, che portano il complessivo dall'inizio dell'emergenza a 21.752. Le persone che hanno perso la vita negli ospedali e fuori dalle strutture ospedaliere del Veneto sono 2.104, negativizzati 17.704. La seconda parte della tabella, 124 pazienti in area non critica, di cui 80 negativi, 7 le terapie intensive impegnate, di cui 6 con pazienti positivi. E arrivano anche i dati relativi all'Ulss 8 Berica, sono stati oltre 5.500 i tamponi effettuati in questi 8 giorni. In aumento quelli positivi, 30 in più, diminuiscono i soggetti in sorveglianza attiva. Questa settimana sono 20 in meno, mentre si registra un nuovo ricoverato in terapia intensiva. E nessun decesso. E ora andiamo a sentire l'appello che l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin lancia in vista del maxi screening per la riapertura delle scuole. Si tratta di uno screening voluto dal Ministero della Sanità e della Pubblica Istruzione, gestito a livello nazionale per tutte le regioni d'Italia. Acquistati in totale 2 milioni di test sierologici rapidi da distribuire anche nella nostra regione. In Veneto sono arrivate circa 96.000 test. Noi li abbiamo distribuiti alle aziende sanitarie, in base all'alfabisogno e ai numeri che avevamo, appunto, docente e non docente. Quindi dal zero, quindi dagli asili nido fino alle superiori, compresi gli istituti professionali. Dall'accordo nazionale la gestione dovrebbe essere tramite i propri medici di medicina generale. Quindi ogni medico di medicina generale dovrebbe fare i propri assistiti. Stiamo però riscontrando delle difficoltà e quindi le aziende sanitarie si stanno attrezzando per avere anche dei posti fissi, con degli orari fissi, dove insegnanti e personale non docente potranno andare. Screening che va fatto prima dell'inizio dell'anno scolastico, prima dell'1 settembre per i nido e il 14 settembre per tutte le altre fasi educative di istruzione. L'ULS 7 ha individuato il distretto di Marostica e l'ospedale di Asiago come punti utili al test rapido, su base volontaria come da circolare nazionale. L'invito è che tutti gli insegnanti, tutto il personale ATA, tutto il personale docente insomma contattino il proprio medico di medicina generale o in alternativa l'ULS 8 di riferimento per poter effettuare questo screening. E allora vediamo per l'ULS 8 Berica come funzionerà questo screening. Detto, fatto, l'ULS 8 Berica ha già preparato il suo piano per sottoporre il personale docente e non al test sierologico come disposto dal Ministero della Salute. Un piano per le scuole nelle scuole. Sono stati scelti infatti cinque istituti dove verranno somministrati i test secondo un rigido calendario. Chiediamo al personale docente e non docente di attenersi strettamente al calendario che abbiamo comunicato in modo da evitare l'assembramento. Tenga presente che parliamo di circa 10.000 persone solo nella nostra ULS per cui ecco il calendario è abbastanza rigido e chiediamo a tutti di presentarsi il giorno che è stabilito. Anche questo tiene per conto dell'eventuale positività che può essere comunque contenuta prima dell'inizio dell'anno scolastico. Assolutamente è stato proprio fatto per questo è uno screening per verificare gli eventuali positivi ecco anche questo è importante una volta che faranno il test che è solo una piccola punturina nel dito e quindi si prende una goccia di sangue solo chi avrà il test positivo verrà contattato. L'istituto comprensivo 7 di Vicenza il comprensivo 10 di Vicenza l'istituto comprensivo di Barbarano l'istituto comprensivo 2 di Valdagno e l'istituto di istituzione superiore Ceccato di Montecchio queste scuole hanno messo a disposizione alcuni locali qui si presenteranno per turni il personale e i personali sia atta che docente della scuola e potranno fare in quelle ore lo screening. Il mio è un appello a farlo è importante innanzitutto per un dovere civico in particolare delle persone che sono nella scuola e in secondo luogo anche per dare maggiore sicurezza ai genitori e agli allievi che la scuola praticamente ha del personale sicuro testato. Restiamo in tema scolastico abbiamo sentito un po' il polso dei vicentini su questo argomento. Sì, è giusto che i bambini portino la mascherina a scuola? Sì, assolutamente sì. Perché secondo lei? Secondo me c'è tante infezioni in giro. È giusto fargliela portare? Sì. Secondo me sì. Visto che siamo sotto questo riflettore del covid e ci sono questi contagi sì, assolutamente sì. Dal mio punto di vista no perché comunque i bambini da quanto hanno detto non hanno comunque il coronavirus quindi non sono persone che vanno al contagio quindi per me è un no. Provoca anche problemi di socializzazione? Sicuramente perché si fa fatica anche noi a riconoscere le persone perciò penso che anche i ragazzi a scuola si sentano un po' messi da parte o non trovo giusto. Prima di tutti perché fa male respira tutta anidride carbonica che poi insomma è un po' ridicolo. Le mascherine ricordiamo sono obbligatorie dalle 18 alle 6 nei luoghi in cui si possono creare aggregazioni e ne abbiamo parlato con il sindaco Francesco Rucco. Primo weekend di mascherine obbligatorie all'aperto in orario Movida e di conseguenza scattano i controlli coordinati dalla questura che ha fatto già girare la circolare tra le forze dell'ordine. La polizia locale controllerà soprattutto le piazze degli aperitivi, piazza delle erbe, zona pescherie vecchie, piazza dei signori. Su questo lavoreremo in questa fase con un'azione di informazione dopodiché dopo un certo periodo nei prossimi giorni lavoreremo anche sui controlli del rispetto delle ordinanze quindi in maniera più rigorosa. Questa è la linea che ha dato anche la questura. Il primo cittadino plaude all'impegno dei vicentini e nonostante manifesti la preoccupazione per i numeri crescenti del contagio adotta almeno per ora una linea morbida. Sì, questa è una richiesta che ho fatto al Comitato Ordine e Sicurezza sposata anche dal questore condivisa dal questore e quindi siamo già partiti noi come polizia locale in città a spiegare ai cittadini il comportamento. Devo dire che i vicentini stanno come sempre rispettando le regole molto bene. Chiaramente c'è sempre qualche eccezione e su quelle eccezioni poi dopo l'informazione andremo anche a fare le verifiche ed eventualmente appliceremo delle sanzioni. L'ordinanza del Ministero della Salute ne prevede infatti l'obbligo dalle 18 alle 6 anche all'aperto nelle piazze e negli spazi pubblici dove sia più facile il formarsi di assembramenti una stretta che cammina a braccetto con la chiusura discoteche e che guarda i giovani con particolare attenzione. E voi giovani vi sentite un po' con il dito puntato? Beh, in realtà no perché nel senso nel rispetto anche delle altre persone anche della sicurezza delle altre persone per me... Penso sia una cosa giusta è stata fatta proprio nel periodo in cui i giovani si incontrano di più nelle piazze quindi è onesto speriamo solo di non doverla portare tutto il giorno ecco questo sarebbe un pochino un po' più problematico. Credo che sia giusto multare chi non la mette. Sicuramente è giusto per tutelare un po' la sicurezza dei cittadini ecco e quindi sì io approvo comunque questo anche se in questo momento non ce l'ho approvo l'uso della mascherina sicuramente visto anche la situazione che non sta andando nel migliore dei modi. Cambiamo decisamente argomento parliamo di politica perché oggi è iniziata la due giorni di presentazione delle liste per le regionali. Agosto 2020 sotto il tradizionale solleone la macchina burocratica delle elezioni regionali e comunali dal 20 al 21 settembre si è messa ufficialmente in moto in condizioni inedite oltre al periodo stagionale insolito alleggia minacciosa la capa della pandemia del coronavirus oggi primo giorno utile per depositare le liste ufficiali per la circoscrizione di Vicenza la sede deputata è il tribunale in via Ettore Gallo l'aula bunker è il luogo dove è stata istituita un'apposita commissione fin dalle prime ore del mattino si sono avvicendati i rappresentanti dei partiti a depositare le candidature ufficiali Forza Italia Fratelli d'Italia Lega Lista Veneta Autonomia Lista Zaia Presidente Partito Democratico Movimento 5 Stelle risultano già presenti per quest'anno eccezionalmente per la pandemia il numero di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto ad un terzo per la presentazione definitiva delle restanti liste c'è tempo fino a domani entro mezzogiorno però a quell'ora le porte del tribunale si chiuderanno per le comunali in Veneto saranno 41 le amministrazioni che verranno rinnovate o confermate sono il 7,3% dell'intera regione in provincia di Vicenza sono 6 comuni interessati Albettone Cogolo del Cengio Lonigo Malo Posina E Recoaro Terme per Lonigo l'unico comune sopra i 15.000 abitanti è previsto un eventuale ballottaggio il 4 e il 5 ottobre e andiamo a vedere i funerali di Angela la ragazzina investita e uccisa da Arzegnana da un pirata della strada uscirà dalla casa circondariale di Vicenza dove era rinchiuso da mercoledì in isolamento per essere trasferito agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Arzegnano il carrozziere di 54 anni titolare di un'officina a Chiampo arrestato con l'accusa di aver travolto e ucciso domenica 16 agosto la quindicenne Angela Vignaga fuggendo poi dal luogo dell'incidente l'uomo era stato fermato 48 ore dopo all'interno dell'officina dove aveva riparato la Fiat Panda Bianca coinvolta nel sinistro oggi in tribunale a Vicenza si è tenuto l'interrogatorio di convalida a carico dell'uomo che non era presente c'era il suo avvocato che per lui ha chiesto la misura alternativa qualche ora dopo il giudice indagini preliminari ha firmato il provvedimento di convalida concedendo al 54 anni i domiciliari e proprio oggi si sono svolti i funerali di Angela la messa è stata celebrata dal parroco di Arzegnano Mariano Lovato alla chiesa di San Matteo a Castello un migliaio di persone della comunità arzegnanese hanno portato la loro vicinanza alla famiglia della vittima una commozione che si è conclusa con il lancio di palloncini bianchi sulle note di giovanotti Ancora cronaca una baby gang in azione a Tiene Fuori i soldi o ti riempiamo di botte parole che tre ragazzini due minorenni e uno appena maggiorenne avrebbero rivolto ad un cuoco trentenne del Bangladesh che lavora a Tiene dopo averlo accerchiato tutto è successo ieri pomeriggio quando il malcapitato appena uscito dal supermercato di via Gorizia stava prendendo la bicicletta ma nel tentativo di scappare i tre della baby gang hanno calciato la bici lo hanno bloccato e gli hanno rubato una banconota da 50 euro non solo l'hanno inseguito e nuovamente accerchiato in prossimità della chiesa della natività nel tentativo di rubargli anche il cellulare grazie all'aiuto di un barista che era nelle vicinanze i tre della baby gang si sono dati alla fuga intervenuti carabinieri sono riusciti a fermare i tre responsabili nei pressi della stazione delle Corriere pronti a salire diretti ad Arsiero si tratterebbe di due 17 anni e un 18 anni nati in Italia da genitori marocchini residenti in località limitrofe e già noti alle forze dell'ordine per episodi di rapina ai danni di coetanei adesso la posizione dei giovani è al vaglio della procura della Repubblica di Vicenza e della magistratura minorile di Venezia episodio che riporta l'attenzione su un problema sociale quello delle baby gang cui la cittadina non è nuova e su quello dei controlli ci ha detto l'assessore comunale della sicurezza Alberto Samperi che chiederà un tavolo con il prefetto per intensificare la presenza sul territorio portiamo pagina parliamo di sagra e insicurezza le proloco vicentine sono pronte a ripartire mettendo in campo una serie di eventi che coinvolgeranno cittadini e realtà territoriali sotto un unico motto sicurezza con prenotazioni online e posti ridotti si privilegeranno appuntamenti di valenza storica una ventina in tutto da agosto ad autunno che vanno dalla festa del gnocco di Arsiero alla festa di San Bortolo a fare a Vicentino dalla festa del Bacalà alla Vicentina alla mostra scambio auto e moto d'epoca di Lonigo e poi visite guidate tra i beni culturali e ambientali gestiti dalle proloco una ripartenza che arriva dopo un anno in cui sono state cancellate 600 manifestazioni che solitamente attraggono 70.000 persone calcoliamo che abbiamo perso nel 2020 oltre 5 milioni di euro in provincia di Vicenza diretti poi c'è l'indotto nel senso che ogni nostra attività ad esempio dove mettiamo un capanone anche la ditta che monta il capanone lo prepara è chiaro che ha un suo movimento economico ma nonostante le perdite durante i mesi di lockdown l'attività delle associazioni non si è fermata la disponibilità dei volontari ha permesso di organizzare raccolte fondi a favore della sanità vicentina degli ospedali del territorio di supporto alla protezione civile attività di consegna della spesa a domicilio per i cittadini in difficoltà io voglio sottolineare però che nonostante queste difficoltà le proloco nel momento alto del coronavirus hanno raccolto in pochissimi giorni 23.000 euro che sono stati donati all'ospedale di San Bortolo e all'ospedale di Sant'Orso e a Chiampo riaperta ai fedeli la chiesa del complesso del Beato Claudio era il 6 agosto del 2018 quando il tetto della chiesetta del Beato Claudio dietro la pieve venne devastato da un incendio 1500 metri quadrati andati distrutti una colonna di fumo e fiamme domate per ore dai vigili del fuoco la fede ci aveva detto il sindaco in un'intervista di allora dobbiamo dimostrarla in questi momenti è stata ripristinata totalmente la chiesa del Beato Claudio una chiesa importantissima per tutta la comunità di Chiampo ma non solo perché i fedeli arrivano da tutta Italia anche da altri paesi europei tra l'altro quindi è molto conosciuta questa meta molti ci contattavano per chiederci quando i lavori sarebbero stati effettuati a tempo di record possiamo dire la chiesa è stata ripristinata nel suo splendore e quindi oggi è usufruibile dai fedeli visitabile si cebbero le messe regolarmente è proprio in virtù di quella fede di quell'investimento che oggi a distanza di due anni il santuario torna a rivivere e ad essere godibile in tutto il suo splendore un luogo suggestivo e meta per molti fedeli la grotta è una coppia esatta di quella di Lourdes una passeggiata lungo la via Cruci si immersa nel parco un museo con fossili antichissimi e la chiesa con il mosaico a parete dietro l'altare per un luogo che infonde pace serenità e raccoglimento e che viene restituito ai fedeli questo era l'ultimo servizio ricordiamo che dopo i nostri telegiornali andrà in onda sport in casa con Alex Giuliano che stasera avrà come ospite il leader Romagna del cartigliano parleremo di serie D questa sera il nostro direttore Luigi Baccialli avrà ospiti studio Giulia Andriana Mauro Armelao Simone Borile Fabrizio Comencini Marco Dolfin e Alberto Gottardo per oggi da Vicenza è tutto vi auguriamo una buona serata e vi lasciamo al meteo nuovo Renault Captur scoprilo nelle versioni benzina diesel e GPL e con il motore E-Tech Plug-in Hybrid scegli tu quando guidare elettrico nelle concessionarie Rigoni Franceschetti di Vicenza e Tiene ben trovati al meteo l'anticiclone africano nella giornata di sabato 22 agosto farà sentire energicamente la sua presenza dunque bel tempo e tanto caldo vediamo la situazione nel dettaglio sul Veneto ampio soleggiamento con cielo sereno e sgombro da nubi al massimo solamente con qualche velatura pressione però in calo sui settori alpini dove dal pomeriggio saranno possibili dei temporali localmente forti clima rovente con temperature minime fino a 23 gradi massime comprese invece tra 30 e 36 gradi all'incirca vediamo ora che tempo farà nella città di Vicenza lo scenario non cambia condizioni di stabilità sarà asciutto e con il sole ben presente un po' dappertutto non sono attese piogge particolarmente degne di nota infine le temperature massime arriveranno a toccare i 35 gradi dal meteo per ora è tutto vi auguro un buon proseguimento con Rete Veneta arrivederci nuovo Renault Captur scoprilo nelle versioni benzina, diesel e GPL e con il motore E-Tech Plug-in Hybrid scegli tu quando guidare elettrico nelle concessionarie Rigoni Franceschetti di Vicenza e Tiene desenvolvedore dare